Coach, un commento su questa partita che vi ha visto in partita per tutti e 40 minuti, un finale che poi ha deciso il risultato per una grande prestazione da parte dei Rimini? Noi siamo molto orgogliosi della prestazione che abbiamo fatto contro un avversario che sappiamo essere insieme a Trieste, secondo me il roster migliore di tutta la 2, con tutto rispetto per gli altri. Abbiamo fatto la partita che volevamo fare, Gagliarda a testa alta e facendogli soffrire per 40 minuti. Siamo andati a una rimessa dal potere andare a supplementari e questo ci fa molto piacere, noi sapete bene che eravamo anche meno mati, ma questa partita è figlia del fatto di non volersi aggrappare a nessun alibi. Quindi la prestazione ci soddisfa, non siamo contenti perché non abbiamo vinto, bisogna essere contenti solo quando si vince, ma la prestazione sicuramente c'è stata, abbiamo fatto pari valutazione con Udine e per quanto ci riguarda abbiamo migliorato quasi tutte le nostre voci offensive. Il peccato Vignale, che poi Vignale non è perché ci è costato la partita, è che qualche volta di troppo ci siamo persi i loro tiratori.